Salve, salve da Marco Calabro per conto di Tour Video. Ci incontriamo oggi a Bucaramanga in Colombia e quello che stiamo vedendo è un autobus della Concorde di produzione brasiliana, un Marco Polo, un Paradiso 1200. Per il viaggio che riguarda, per la tratta che riguarda Bucaramanga, Bocotà, sicuramente stiamo parlando di un'ottima soluzione low cost, nel senso che il rapporto qualità-prezzo è molto interessante. Consideriamo che l'autobus è veramente di ottima qualità, stiamo parlando dei migliori autobus al mondo e il prezzo è estremamente competitivo. Quindi da Bucaramanga conviene sicuramente muoversi con questo tipo di veicolo per andare a costo, per andare a Bogotà. Grazie per ascoltare i video di Tour Video e arrivederci al prossimo video.